diciamo che la chiacchierata di oggi riguarda più forse alcuni aspetti architettonico storici per come si può intervenire sull'adeguamento funzionale che ovviamente si deve fare anche contemporaneamente l'adeguamento sismico però in linea di massima la partenza almeno su alcune cose che ho fatto qualche anno fa era proprio legata al fatto di dover allargare un ponte per metterci una pista ciclabile oppure semplicemente il marciapiede e qui vediamo un ponte estremamente interessante ho scoperto che è di Iappelli Iappelli è l'autore del caffè pedrocchi molto più noto come architetto e come paesaggista invece lui era un grandissimo ingegnere come spesso succedeva a metà dell'ottocento e questo ponte doveva essere adeguato e quando siamo intervenuti abbiamo visto che si poteva invece fare un'altra operazione perché quando si interviene su un ponte e bisogna chiuderlo per mesi uno si deve domandare qual è l'impatto sociale la chiusura di un ponte quando a monte e a valle i ponti transitabili sono sull'ordine di grandezza di 8 9 10 chilometri il problema si pone ed è grosso soprattutto in ambienti abitati come quelli italiani e quindi qui abbiamo proposto di fare la prossima slide ecco abbiamo proposto di fare un'operazione intanto di maquillage definito perché quando si tratta di un ponte antico soprattutto se è in muratura c'è bisogno di fare un restyling di cui noi italiani siamo al massimo qui si vedono addirittura le uncini delle alzaie perché insomma ci ricordiamo che il veneto era sostanzialmente un luogo dove ci si si circolava per acqua ovviamente quando c'era la serenissima repubblica eh avanti e quindi un altro dettaglio vediamo ecco qui qui vediamo che cosa in realtà abbiamo realizzato abbiamo detto con quattro soldi facciamo una passerella ciclopedonale abbastanza ampia di larghezza infatti siamo sui quattro metri ma contemporaneamente abilitata per i carichi almeno quelli di servizio quindi non solo rotomobili ma anche lo scuola bus e così via cioè per rispondere alle necessità della popolazione abbiamo naturalmente optato per una soluzione di ponte ad arco anche per far sposare l'arco con l'arco che insomma è una cosa abbastanza importante ovviamente l'abbiamo fatta in acciaio perché in pochi giorni è stata montata e quindi il cantiere di fatto è potuto partire e lavorare in tutta tranquillità perché il transito almeno quello di funzionalità diretta era garantito avanti qui invece siamo di fronte a una situazione eh decisamente diversa eh perché il il ponte come vedete è un ponticello molto interessante piccolo qui siamo verso verso este siamo nei colli uganei sostanzialmente e questo ponte finisce contro una diciamo una villa veneta ce ne sono migliaia nel veneto e quindi qui il problema è che si poneva era cosa fare bisognava adeguarlo e noi abbiamo proposto una soluzione anziché di allargamento del ponte di affiancamento di un nuovo ponte abbiamo lavorato con la soprintendenza perché naturalmente questi sono tutti i ponti vincolati e quindi hanno bisogno dell'accordo del ministero avanti ecco questa è la proposta diciamo vedete il prospetto ancora qui un arco a tutta luce un po' ribassato con una soluzione un po' particolare perché abbiamo voluto non utilizzare lo schema classico della travatura reticolare ma una una travatura firendel che ha qualche costo in più però si presentava architettonicamente in modo più adeguato vedete nella sezione invece una differenza tra l'altro abbiamo ripristinato la condizione del vecchio ponte chiaramente il vecchio ponte non prevedeva senz'altro le macchine perché questo è un ponte seicentesco e quindi abbiamo risolto il problema brillantemente poi naturalmente è stato comunque sistemato il ponte esistente avanti questi sono i disegni ma adesso vedremo anche la fase si no no avanti non indietro ecco no c'è qualcosa che non va avanti ecco qui c'è la fase di montaggio del ponte e vi lo vedete avanti niente abbiamo avuto un po' di problemi comunque tornati indietro quello l'abbiamo risolto qui invece si troviamo di fronte a una operazione un po' particolare qui vedete un ponte prima avevamo visto velocemente che si tratta di un borgo classico dove c'è il fiume e c'è la parte abitata e c'è questo ponte che non ha un pregio particolare sono solo un ponte ottocentesco parte ripristinato però questa particolarità come vedete di questo occhio che una volta si faceva perché il materiale costava molto adesso quello che costa molto è la mano d'opera qui c'era il problema di come allargare questo ponte e qui siamo in provincia di bologna la provincia di bologna ha ricevuto parecchie bocciature di allargamento dei ponti quindi ha messo in piedi una commissione alla quale ho partecipato che in qualche modo ho diretto nel rapporto architettura ingegneria e alla fine abbiamo prodotto questa cosa che adesso vedete avanti ecco questo il disegnino diciamo iniziale cosiddetto rendering per far vedere che tutto sommato si può fare una cosa anche piuttosto delicata incorniciando in qualche modo il quei quei fori quei cerchi e appoggiandosi su una struttura sufficientemente robusta previa verifica naturalmente che il materiale fosse in grado di riprendere le azioni concentrate che si determinano quando si entra puntualmente avanti il sistema è uno strato in tie cosiddetto che vedete dalla sezione che fare un arco inclinato in quel modo significa determinare ovviamente nella componente orizzontale una trazione piuttosto importante anche se non eccessiva che quindi poi è stata riportata dall'altra parte con delle barre di VDAG quindi senza problemi particolari contando sul fatto che tutto sommato la struttura è massiccia e poi come più o meno tutti sanno in questi casi le fondazioni sono piuttosto robuste dal punto di vista della portanza semmai ci potrebbe essere qualche problema di scalzamento ma questo non c'era quindi come dire il carico aggiuntivo sulla fondazione tutto sommato era abbastanza accettabile avanti ecco questo è il risultato ecco qui lo vedete ancora meglio inserito in quell'ambito state correndo un pochino troppo di la verità comunque va bene stiamo anche qui qui si vede il risultato finale tra l'altro sotto la prima arcata c'è un percorso vita e quindi quel ponte in qualche modo interagisce psicologicamente col soggetto io dico spesso ma l'ha ripetuto anche prima leggere il Martinello il ponte parla ecco io in questo caso non dico il ponte parla per esprimere la sua sofferenza ma il ponte parla per dire la sua emozione e però dice state attenti perché se intervenite io sono un vecchio bisogno di essere rispettato e quindi quando intervenite per cortesia cercate di fare una cosa che sia compatibile qui vedete abbiamo risposto anche alla carta del restauro un intervento reversibile prima di tutto ed è possibile naturalmente la reversibilità è trasparente e snello ecco questo è il risultato che mi sembra particolarmente brillante avanti ecco poi invece state correndo un pochino troppo ecco ragazzi ecco questa partita con la precedente faceva vedere che noi abbiamo allargato da una parte in consa l'altra ma questa è anche una motivazione di carattere emotivo perché la memoria collettiva ovviamente una o due generazioni si perde se voi lasciate un affaccio come era anche se noi abbiamo in qualche modo modificato l'altro affaccio almeno la parte iniziale rimane dopo di che si va di sopra dopo aver fatto un intervento come avete visto piuttosto delicato tra quanto vinto un premio food bridge a porto qualche qualche anno fa per questo intervento che costa pochissimo allora 200 mila euro quindi non un granché e ci ritroviamo che sopra abbiamo questi guarder e che secondo me andrebbero rivisti perché quando si interviene su un ponte antico la situazione dovrebbe essere mirata anche a preservare la memoria tutto sommato ci può anche essere un dissuasore iniziale per ridurre la velocità e quindi ridurre il pericolo avanti ecco qui invece ci troviamo di fronte a un ponte tutto sommato oppure moderno è un ponte costruito negli anni 50 siamo legnago sull'adice fiume romeo giulietta legnago e caratterizzato dal fatto che sostanzialmente il fiume è pensile e le sommità arginali sono alte al livello dell'acqua grossomodo è lo stesso livello del terreno esterno il legnago è divisa in due parti sono collegate da questo ponte un ponte dell'anas e poi passato naturalmente alla provincia andiamo avanti cosa fare qui allora qui abbiamo proposto prima di tutto uno studio di quello che era avvenuto nel passato e abbiamo ricavato dagli archivi tra l'altro poi ce l'ho anche perché mi è stata donata la planimetria e il prospetto c'era un ponte esistente e questo ponte era fatto in un certo modo avanti ecco qui lo vedete è un ponte con questa travatura reticolare articolata in modo molto molto particolare noi da questo abbiamo tratto come dire il suggerimento architettonico quello che si chiama genius loci per fare questo allargamento un allargamento importante che naturalmente dovrà anche consentire qualche cosa di più del semplice attraversamento cioè riteniamo che quando si tratta di collegare due parti di città non possono essere i soliti due metri due metri e cinquanta bisogna avere qualcosa di più respiro che consenta anche naturalmente la fruibilità quindi fermarsi guardare l'acqua io me lo ricordo quando ero piccolo penso che l'acqua fassini tutto tutti magari buttando una foglia per vedere con quanto cammina si sto parlando anche dei ricordi infantili avanti ecco questo è il primo rendering che abbiamo fatto molto improbabile naturalmente perché le strutture così esili non è che posso possiamo accettarle soprattutto negli attacchi comunque l'impostazione è sostanzialmente quella che vi ho fatto vedere prima cioè allargare utilizzando le strutture esistenti con l'elemento inclinato dopo in realtà come vedremo abbiamo optato per una soluzione di inserire dei nuovi pali perché non eravamo certi in questo caso della portanza delle fondazioni esistenti avanti ecco qui vedete come è stato articolato l'impostazione sostanzialmente la stessa questo elemento inclinato di supporto e poi di sopra il la trave che fa anche da parapetto e questo naturalmente ha consentito di non modificare l'altezza utile per il deflusso dell'acqua perché l'adesi li monta e anche tanto avanti ecco abbiamo lavorato anche sul colore questa è una cosa su cui si parli di cui si parla poco ma che invece è fondamentale perché luce e colore fanno parte del paesaggio la gente giudica anche in funzione di quello che vede come diciamo emoziona e potete andare in successione avanti ecco avanti ecco alla fine abbiamo optato per la soluzione nero antracite avanti questa è che io ho voluto documentare anche in varie fasi perché ogni volta che ho un'opportunità di tipo professionale cerco di trasformarla in uno studio una ricerca da trasmettere poi ai miei studenti e a qualche collega su quale magari possiamo anche riflettere interattivamente avanti ecco durante la fase di varo usando la struttura esistente quindi diciamo interruzione di poche ore che si può anche fare è un disagio che si può accettare avanti ecco avanti ecco volevo soffermarmi un momentino sugli elementi di diciamo di sostegno che sono inclinati ovviamente quindi ancora una volta abbiamo il problema dell'azione orizzontale che è stata ripresa poi avuto la brutta sorpresa che il calcestruzzo che avevamo diciamo verificato in modo un po grossolano all'inizio si è rivelato nella parte oggettiva molto più modesto di qualità e quindi è stato comunque un rinforzo locale che ci ha comportato anche una piccola differenza di spesa ma insomma assolutamente modesta avevamo previsto qualcosa di imprevisto e l'abbiamo utilizzato avanti ed è stata sostanzialmente nella struttura di questo il risultato finale come vedete avanti ecco qualche dettaglio abbiamo messo anche quel piccolo rostro nella parte di sotto non solo come vezzo architettonico ma anche per proteggere l'attacco nel caso in cui venisse giù qualche qualche purtroppo succede qualche tronco e ovviamente abbiamo rafforzato le componenti compresse perché la struttura non poteva essere esile come è stata indicata all'inizio poi abbiamo lavorato anche sulla continuità strutturale in modo da ridurre l'altezza delle travi avanti ecco qualche dettaglio che poi veniva nascosto però insomma gli studenti bisogna far vedere che quello che si vede non è il vero ma è come dire un ponte vestito ma noi abbiamo il dovere di sapere che sotto il vestito c'è qualche cosa e quindi va valutato dico sempre che i miei studenti guardate che se i dettagli costruttivi non li disegnate voi quelli disegna qualcun altro e probabilmente non sarà quello che voi vi aspettate avanti ecco è interessante l'interazione tra l'oggetto ponte passerella in questo caso e l'intorno qui abbiamo c'è una struttura di mattoni poi naturalmente dovevamo mettere l'ascensore e questo è stato fatto abbiamo anche vinto un premio questa volta di tipo architettonico urbanistico insieme con chi ha disegnato la piazza che è un architetto maria grazia e che lì avanti ecco qualche dettaglio vi faccio vedere queste cose perché gli ingegneri sono abituati a risolvere il problema senza come dire preoccuparsi dell'intorno credo che sia importante invece quantomeno segnalare un ragionamento e poi cercare di risolverlo con il comitente in questo caso il comitente posso dire che ha illuminato mi ha cercato per risolvere questo problema probabilmente perché aveva avuto qualche bocciatura precedente da parte della soprintendenza come succede spesso avanti ecco qui qui vediamo una cosa interessante vedete la struttura poi vedete la griglia diciamo che accomoda poi che cosa l'ha avanti la pavimentazione che è in legno pavimentazione in legno qui abbiamo anche disegnato i parapetti e montanti per la luce perché il discorso si completa ovviamente non è un lavoro solo mio ma insomma io ho allevato un po di studenti facendo l'esame di ponti con me fatto 750 tesi di laurea di cui 400 dedicate ai ponti e qualcuno dei miei studenti più bravi li ho presi a lavorare con me e qui si vede anche la mano dell'architetto però più o meno concordata anche con me avanti stato finale è stato piuttosto brillante qui invece ci troviamo di fronte a una situazione un po più delicata perché qui è l'attraversamento di una di una di un'autostrada se siamo tra verona e vicenza e questi ponticelli stati fatti anzi viadottini sono stati fatti un bel po di anni fa e hanno problemi dimensionali quindi bisogna allargarli anche qui abbiamo optato per una soluzione tipo quella precedente avanti vediamo e qui vedete i rostri sono un po più articolati e sempre naturalmente con il sistema tirante puntone ma qui era semplice perché in fondo essendo un portale abbiamo semplicemente inserito poi una croce di sant'andrea che ci poteva consentire di risolvere il problema il cosiddetto controvento che secondo me è santo e in certi casi sarebbe bene che ci si pensasse un po di più avanti vedete che il sistema è lo stesso qui abbiamo lavorato sul colore ancora una volta questo è un verde avanti questo è un giallo come vedete un giallo arancione avanti questo l'antracite che abbiamo proposto prima però alla fine avanti abbiamo optato per questo rosso e qui ve lo facciamo vedere finito è un'operazione tutto sommato interessante naturalmente per il montaggio abbiamo dovuto chiudere per qualche ora il transito ma questo succede abbastanza spesso avanti ecco di notte che cosa abbiamo fatto il pezzo intero varato avanti ecco questo risultato finale abbastanza interessante abbiamo anche rinforzato tutta l'impostazione di guard rail perché qui bisogna evitare ovviamente che se c'è uno svio cosa che è prevedibile abbiamo anche visto bisogna naturalmente assicurarsi che non ci sia il rischio di buttare giù gli insieme di quei puntoni il stato è stato piuttosto gradito insomma siamo anche molto orgogliosi ormai questa cosa sta fatta da 15 anni fa avanti ecco qui invece ci troviamo in una situazione diversa cioè siamo in un ambiente particolare siamo Eraclea Eraclea siamo sul piave Eraclea è l'ultimo ponte sul piave dopo di quello c'è un ponte di barche che viene ancora oggi usato a monte di questo c'è un ponte che ho realizzato io a San Donato di Piave e poi si va avanti mentre Piave è pieno di ponti ci ricordiamo anche il più famoso che è il ponte della Vittoria che sta a Belluno opera del magnifico Eugenio Miozzi che spero che qualcuno conosca come uno dei geni dei ponti del novecento avanti che cosa dobbiamo fare qui qui c'era un problema qui vedete il ponte mi fermo un secondo a ragionare che bisognava interrompere il traffico per fare una sistemazione perché il ponte non stava bene non stava malissimo però bisognava rinforzarlo e quindi interrompere il traffico ancora una volta ci si è posto il problema ma su questo ponte transitano decine di migliaia di veicoli anche perché questa è la strada che porta verso Jesolo Jesolo come sapete una delle località balneari turisticamente più affollata quindi non era possibile immaginare di interrompere per parecchi mesi il traffico quindi abbiamo immaginato questa volta di allargarlo con due protesi simmetriche mentre gli altri li abbiamo tutti fatti solo da una parte in questo caso invece abbiamo utilizzato il concetto della doppia carreggiata in modo da consentire una volta realizzati gli elementi esterni di interrompere completamente il traffico interno fare quello che si doveva fare anche in piena sicurezza perché lavorare in presenza di traffico è un problema che pone delle questioni di sicurezza piuttosto pesanti avanti ecco qui abbiamo lavorato sul colore naturalmente è un po una mia fisica però che è importante questa cosa va segnalata lo dico soprattutto in un consenso di ingegneri io credo che le componenti architettoniche debbano almeno essere prese in considerazione poi magari ci si può discutere si può vedere ma se la soluzione del problema è solo quella come dire ingegneristica molto spesso risolve il problema della sicurezza ma non risolve il problema dell'architettura in fondo siccome architettura e paesaggio fanno parte del nostro sentire io credo che sia un dovere di tutti intervenendo su opere di questa rilevanza perché sono comunque rilevanti dal punto di vista anche della fruizione avere un'attenzione particolare alla questione come dire architettonico paesaggistica e anche sui dettagli costruttivi avanti ecco un'altro un'altra battuta sul colore avanti ecco questo il risultato finale nella parte interna il ponte è stato completamente sistemato poi vediamo che la soluzione finale sul colore e lascia un po desiderare avanti ecco c'è questo colore improbabile che non ho scelto io tra l'altro non ero neanche direttore dei lavori ma solamente un riferimento artistico ma la decisione è stata presa come spesso succede credo dalla moglie del sindaco perché più o meno è così diciamo le decisioni vengono prese in modo io non la condivido stato questo ha avuto anche una storia un po particolare perché l'impresa non era pagata a un certo momento ha fatto un'azione ha dissaldato un pezzo e quindi poi si è dovuto ripristinare per un dispetto interno cose che purtroppo qualche volta succedono non se ne capisce la motivazione però insomma ogni tanto qualcuno perde il lume della ragione evidentemente nella sasperazione complessiva giustato finale però è stato molto brillante perché non abbiamo mai interrotto il traffico salvo naturalmente nel posizionamento delle della segnalettica e quindi non c'è stato disagio della popolazione è un elemento di cui come ripeto bisogna tenere assolutamente conto cioè ogni volta che noi interveniamo su un ponte ricordiamoci che la sua interruzione crea dei disagi enormi e i disagi enormi non sono solamente di carattere psicologico funzionale ma anche perché poi alla fine la decisione politica si riverbano sulla sul politico di turno allora probabilmente si può dire fin dall'inizio come io spesso faccio per non dire sempre stai attento perché quando tu intervieni ai questi riflessi che naturalmente possono incidere perché poi questa la sensibilità politica sulla tua credibilità politica e quindi anche sul consenso popolare non è una cosa marginale avanti ecco qui invece ci troviamo in una situazione che vedo meglio eccolo qua in cui vedete il risultato finale e quindi questa cosa qua anche sul rapporto del colore alla fine non è venuta male è interessante vedere poi gli attacchi perché ovviamente l'allargamento previsto non si è limitato ai classici due metri due metri e 50 siamo andati a 3 50 anche perché avevamo la doppia linea di percorso e questa cosa naturalmente ha consentito di lavorare molto meglio avanti ecco qui invece ci troviamo di fronte a una proposta progettuale che non è andata a buon fine qui parliamo sempre dell'autostrada serenissima ci hanno chiesto di fare un allargamento che avesse anche un valore simbolico una specie di portale cosa che a quell'epoca era considerata importante erano era il periodo dei fasti delle autostrade adesso la situazione un po diversa e quindi qui abbiamo disegnato un questo questo grosso arco un arco sostanzialmente di tipo parabolico che doveva segnare l'accesso alla città anzi scusate l'accesso all'autostrada e naturalmente abbiamo voluto complicarci la vita vediamo adesso avanti ecco questo è un rendering è un rendering qui qui vedete subito c'è qualche cosa di strano e in effetti adesso vediamo una sezione spero avanti eccola la sezione è questa voi mi domanderete ma come si fa a fare un intervento così pesante inclinando l'anno l'arco e quindi creando poi dei momenti importanti sugli attacchi a terra e ovviamente facendo delle fondazioni super robuste beh diciamo questa è una scelta di carattere proprio comunicativo molto forte io spesso dico che vale la pena di spendere un po di più e anche forse qualche volta tanto di più sull'opera architettonica che rimane permanente nel tempo piuttosto che su spot televisivi o altro ricordiamoci che il mondo della comunicazione e della pubblicità muove miliardi di euro ricordo a tutti che benetton quando ha sponsorizzato la formula 1 e ha vinto due campionati del mondo se ricordo bene con la renault e alonso spendeva decine di miliardi allora uno si domanda perché perché comunicativamente serve questo è il motivo per cui molto spesso si chiama anche calatrava spendendo quattro cinque sei dieci volte quello che è un valore normale quindi in qualche modo qui c'è una specie di processo passatemi il termine di calatralizzazione io lo dico spesso che di sì e nei sì non è before christ and after christ ma before calatrava and after calatrava tra l'altro come forse qualcuno di voi sa che io ho collaudato il ponte di calatrava a venezia dove tra l'altro l'amico settimo con la 4 m ha fatto una serie di monitoraggi importanti per vedere come si comportava nel tempo un ponte che che mi ha creato anche più di qualche problema ed è un capolavoro di ingegneria forense ma non volevo allargarmi al tiro avanti ecco questa è una vista notturna vedete dal punto di vista comunicativo è importante lavorare anche sull'emozione per convincere il cliente oggi abbiamo in mano degli strumenti strepitosi per cui è difficile distinguere la realtà dalla virtualità però in questo caso diciamo ha fatto il suo effetto dopodiché hanno fatto un bando di gara come spesso succede ti chiedono l'idea dopodiché fanno il bando di gara e abbiamo sbagliato la domanda molto semplice allora era possibile tra l'altro e quindi poi non hanno neanche più fatto niente nel frattempo è arrivata la crisi il serenismo è stata venduta eccetera avanti eccolo qua un'altra vista tutto sommato era abbastanza interessante perché in fondo si marcava un luogo grande portale di accesso con un valore simbolico elevato io amo molto gli archi secondo me sono la struttura più bella in assoluto e anche la più efficiente l'arco non dorme mai come dicevo leonardo e però l'interpretazione dell'arco oggi piuttosto complicata soprattutto gli archi in calcestruzzo io l'ho fatto ma con degli elementi prefabbricati avanti e professor siviero siamo già le dieci e mezza dobbiamo un attimo chiudere con questi due passaggi andiamo avanti allora veloci avanti se mi sono preso un po largo questo è l'allargamento di un ponte siamo in zona piemonte c'è un ponte da bisognava allargarlo anche qui abbiamo proposto una passerella pedonale ampia però dovevamo coprire tutta l'intera luce avanti mi sembra di avere 50 minuti ma forse mi sono sbagliato non 30 vero ecco vabbè veloce facciamo non entro troppo nel merito questo è un ponte che ho salvato e avanti è un ponte di adriano galli che aveva avuto questo piccolo problema uno smottamento laterale con qualche fessurina il ponte è sceso di 50 centimetri abbiamo ripreso tutto fatto le fondazioni nuove e fasciato con quelli che io chiamo i cerotti e sono fibre avanti veloce ecco questo è quello che avevamo immaginato poi di allargarlo avanti ma io poi credo di potermi fermare qua questo allargamento avevamo anche già concordato con la soprintendenza è un allargamento particolare in cui volevamo evidenziare questo arco che tra l'altro il primo arco tipo maillard fatto in italia siamo alla fine degli anni 50 realizzato da adriano galli che il maestro di franciosi e jean greco giusto perché si sappia avanti ecco vedete un po di viste uno può essere d'accordo non d'accordo comunque avanti avanti ecco andiamo avanti ancora ecco qui abbiamo lavorato ancora sul colore avanti avanti però il ponte non si è più realizzato perché come spesso succede in italia avanti la passata la festa gabattolo santo gli 800 mila euro per sistemare i ponti sono trovati ma allargamento no passo velocemente questo poi ho veramente chiuso se mi è consentito ancora tre minuti e devo anche far perdonare tutto il casino che ho combinato prima questo è un ponte sulle sui piave siamo un ponte che ha un centinaio di anni perché non sta un ponte dell'apriula avanti dovevamo sistemarlo e qui è una bella vista perché c'è un ponte vicino della ferrovia avanti insomma vado a chiudere perché tutto sommato mi ha cercato i disegni c'è un bellissimo libro che se vi consiglio vi consiglio di trovare eugenio miozzi e santarella santarella miozzi ponti italiani c'è mentre ma dove si trovano un sacco di disegni qui vedete i dettagli avanti io sono un cultore prima di intervenire su un'opera bisogna vedere cosa c'era prima e i disegni originali quindi vediamo avanti anche la fondazione ovviamente in un certo modo a cassoni allora non era così semplice avanti ecco questa è la proposta di fare un allargamento in qualche modo segnando la linea architettonica e statica del ponte esistente avanti lo facciamo vedere così al volo il concetto è sempre quello avanti di allargare solo da una parte non dall'altra qui c'era un video ma non importa la prossima vi vedete il risultato finale vabbè no andiamo avanti devo guadagnare tempo ecco quello il ponte e questo vabbè insomma torniamo indietro farlo vedere un momento comunque questa è una la potete anche tenere nel senso che si può distribuire non ho copyright di nessun genere non ce l'ho mai anche quando ce lo dovrei avere ma secondo me è bene che la gente veda ecco basta mettiamo la chiusura mi scuso con voi per questo inconveniente iniziale ma insomma volevo segnalarvi che il mio motto è bridging culture and sharing hearts che significa connettere le culture e condividere i cuori per propensare un ponte si vuole cuore e passione se non ci mettete cuore e passione il ponte resta neutro e invece i ponti devono essere qualche cosa di più devono appartenere all'uomo e credo anche che si possa dire che la storia delle costruzioni passa attraverso la storia dei punti grazie a tutti se ci sono domande rispondo tranquillamente